Dal 90 al 95 e poi dal 95 al 2000 è un'era divisa in due, c'è un picco e poi c'è una caduta. I gruppi erano questi, articolo 31, onda rossa posse che poi sono diventati assaldi frontali, il sangue misto, poi dal 95 in poi rilevanti sono stati i colleghi del fomento e tutta una serie di gruppi che hanno segnato agli anni 90. Dal 90 al 95 zero etichette, se non forse quelle indipendenti. Poi dal 95 in poi le major hanno capito che stava succedendo qualcosa, hanno investito e questa cosa è durata per cinque anni, poi c'è stato il buio totale nel 2000. Dal 2000 ai primi anni del 2000 vuoto totale, poi è ritornata la cosa con Club Dogo, Mondo Marcio e me e si sono aperte certi scenari con le major, quindi dal 2000 al 2010 è la seconda era stata questa.